Successo per la festa di Roma con cui è stato festeggiato il Capodanno nella capitale. Numeri incredibili per la terza edizione. Sono state oltre 250.000 le presenze di cittadini e turisti durante le 24 ore di festa dedicate alla Luna in occasione dei 50 anni dal primo sbarco sul satellite. Parte la raccolta straordinaria e gratuita degli alberi di Natale naturali, organizzata da Ama. I cittadini possono portare i loro alberi presso i centri di raccolta aziendali, aperti tutti i giorni e dislocati in tutta la città. Grazie alla collaborazione con i carabinieri forestali, gli abeti in buone condizioni saranno ripiantati. A Natale scuole aperte per oltre 500 alunni. Si tratta dell'iniziativa Natale 2018 scuole aperte che durante le vacanze natalizie ha offerto ai bambini e ai ragazzi attività educative, assicurando così un sostegno ai genitori che lavorano. Grazie. 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 Grazie.